Un corso d'acqua è caratterizzato da un bilancio molto ma molto instabile tra quelle che sono le portate che defluiscono all'interno del corso d'acqua stesso. 14 filmati della durata di circa mezz'ora ciascuno sotto forma di lezione condotta da un esperto per imparare a conoscere le regole di base nella gestione delle acque e del territorio. Sono le video lezioni online che la città metropolitana di Torino ha realizzato nell'ambito del progetto Acque e Territorio presentato nell'auditorium di Corsi Inghilterra giovedì 17 ottobre. Questo corso è importante per i nostri comuni perché riguarda il tema dell'acqua, riguarda la gestione dell'acqua e sarà un evento iniziale di formazione dei tecnici. Abbiamo l'onore di avere qui Luca Mercalli che presenterà questo inizio di lavoro. Perché è così importante? Perché i tecnici comunali sono sempre meno, è sempre più difficile trovare esperti della materia e quindi attraverso i nostri tecnici cercheremo di dare quelle che sono le nozioni fondamentali appunto ai tecnici dei piccoli e dei grandi comuni. Poi sarà possibile ovviamente sempre interpellare i nostri tecnici per qualsiasi tipo di approfondimento. Acqua e Territorio è un percorso di formazione e informazione sotto forma di video lezioni online in rivolta agli enti e ai professionisti che si occupano di ambiente, territorio e risorse idriche. È realizzato con la collaborazione di esperti del settore e di diversi enti e associazioni dalla Regione Piemonte al Politecnico di Torino, l'Università di Torino, Enea, CNR, IRSA, CIRF e la partecipazione di Luca Mercalli, meteorologo e divulgatore scientifico. Acqua e cambiamenti climatici sono intimamente legati sia quando abbiamo troppa poca acqua e temperature elevate e quindi entriamo in una fase di stress idrico con le siccità e i problemi legati alla scarsità sia quando invece di acqua ce n'è troppa e entriamo invece nella fase di rischio per le alluvioni e per le frane. Tutti questi problemi tenderanno ad amplificarsi in futuro con il riscaldamento globale e abbiamo dunque bisogno di fare didattica, di spiegare ai tecnici dei nostri comuni, a chi lavora sul territorio, qual è la situazione attuale, che cosa ci aspetta e cosa possiamo fare per essere preparati.